Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono JJ1990F1 In questo video vi parlerò di un pilota in particolare in una gara Ossia di Marcus Winkelok Questo pilota tedesco, figlio di Manfred, anche lui pilota di Formula 1 negli anni 80 E' stato un pilota che si contraddisse in una sola gara Infatti ha corso solo il Gran Premio d'Europa del 2007 Corso al circuito del Nürburgring Questo Gran Premio l'ha corso con la Skyper Scuderia molto scarsa Che da un anno dopo sarebbe diventata la Forza India che corre tuttora Marcus ha corso questa gara per un motivo Cioè che il vecchio pilota della Skyper, ossia Christian Albers Era stato desonerato per motivi di sponsor Dei Manfred Winkelok, che correva nel DTM Aveva pagato una somma di 750.000 dollari per poter correre in Formula 1 per quella gara Nelle qualifiche Si è qualificato ultimo Dato che la Skyper non era molto competitiva Quell'anno, si è stata l'unica sul stagione La Pua l'aveva fatta Raikkonen Si va quindi in gara la domenica La pista alla partenza è asciutta Ma C'è previsione di pioggia forte Quindi Marcus nel giro di ricognizione cambia le gomme e mette le gomme da bagnato Ma tutti gli altri gli ridono addosso ma non sanno che Che fosse fatto una cosa giusta Infatti pochi giri dopo inizia a piovere Forte Tutti i piloti si devono fermare Tranne Winkelok, che aveva già cambiato le gomme E si ritrova così in testa alla gara Cioè Si ritrova così in testa alla gara E forse avrei potuto anche fare qualche buon risultato Se non fosse stato che Al giro 6 C'è stato un grosso tamponamento tra diverse vetture Con anche lui semito che quell'anno sarà quasi stato campione del mondo Che è stato rimesso in pista da qualsiasi di una gru Una manovra che non definirei poi così corretta Anche se poi quella gara si dovrà ritirare per fortuna direi Entra la safety car Ma poco dopo la gara viene sospesa anche per la pioggia Che evidentemente era diventata troppo forte Riparte la gara dopo un po' Con sempre Winkelok in pole position Che però considerando anche la poca competitività della Skyper Viene subito passato Si ritrova nelle retrovie E al giro 13 si dovrà ritirare Definitivamente La gara Che sarà condizionata dalle condizioni meteo Molto variabili Tant'è che Alla fine ricomincerà di nuovo a piovere Dopo che aveva smesso Sarà poi vinta da Fernando Alonso Che all'epoca colleva con la McLaren Che in realtà ci corre anche quest'anno Però dettagli Ma perché vi ho fatto questo video parlando di questo pilota? Ebbene sì Marco Swinkelok in carriera ha corso solo quella gara Ed è subito andato in testa È uno dei 12 piloti che sono andati in testa nella loro gara di sordio Ma a parte questo è riuscito a battere un record che apparteneva a Michael Schumacher Che detiene il maggior percentuale di giri Per corsi in testa sul totale di quelli che ha percorso durante la sua carriera Ha percorso in testa infatti 5.111 giri Su 6.825 corsi in totale E Winkelok correndo solo questa gara Ha corso 13 giri prima di ritirarsi Percorrendo i 5 in testa Battendo questo record Infatti Schumacher ha percorso il 30% dei suoi giri in testa Mentre Winkelok il 38% Oltre a questo è stato anche l'unico pilota nella Formula 1 finora Ad aver percorso ad essere stato nella stessa gara Sia ad essere partito nella stessa gara sia primo che ultimo Infatti la prima partenza era ultimo Dopo le qualifiche La seconda dopo la sospensione della gara era primo Questo video termina qui Vi invito a iscrivervi al canale Mettere un mi piace al video e commentarlo Spero che vi sia piaciuto Non so se sapevate questa storia Spero di avervi insegnato qualcosa di più Tra l'altro questo weekend vi dico già che arriveranno i video Sul gran problema degli Stati Uniti Che si correrà questo weekend Appunto Vi dico iscrivervi al canale Mettere un mi piace al video e commentarlo Ciao Da JJ